Migliaia di palestinesi sono scesi in piazza a Ramallah, in Cisgiordania, una ventina di chilometri a nord di Gerusalemme, per protestare contro la scelta del presidente americano Donald Trump di riconoscere proprio Gerusalemme come capitale dello Stato di Israele, spostando vidate la vive la sede dell'ambasciata americana. Nel frattempo, Fatah, il movimento del presidente dell'autorità palestinese Abu Mazen, ha lanciato un appello a tutti i palestinesi a manifestare mercoledì 20 dicembre 2017 contro la visita a Gerusalemme del vicepresidente americano Mike Pence, che ha annullato la parte del suo viaggio nelle zone palestinesi proprio dopo che Abu Mazen si è rifiutato di riceverlo in segno di protesta. In tantissimi intanto hanno partecipato ai funerali dei quattro palestinesi uccisi negli scontri con i soldati israeliani in Cisgiordania e nella striscia di Gaza durante il venerdì della collera, indetto contro la decisione di Trump.